Castiglionfibocchi Oggi inauguriamo una macchina che abbiamo restaurato, una macchina a vapore Marshall del 1913-14 e la proviamo proprio qui a Castiglionfibocchi dopo averla restaurata in circa due anni con un mio amico di Bologna. Questa è una macchina a vapore da cui nasce la prima energia, il primo movimento, la prima energia è quella a vapore e da lì c'è una rivoluzione, si rivoluziona tutto per quanto riguarda le attività umane perché finalmente l'uomo ha a disposizione l'energia quando vuole e quanta ne vuole.